Una nuova destra nazionale e popolare che sia alternativa di governo alla sinistra. Azione nazionale, nuovo movimento politico si ritrova a Napoli e si impegna ad aggregare la destra dispersa. Associazioni, liste civiche e sigle locali che non hanno più riferimenti politici nel centro-destra. Nell'aula consigliare del complesso monumentale Santa Maria la Nova si è parlato anche di macro-regione meridionale e delle strategie di sviluppo. Quali sono i programmi e gli obiettivi? Gli obiettivi sono quelli di recuperare un rapporto tra Sud e Costituzione che è stato messo fortemente in discussione attraverso la riforma del 2001 del titolo V. Guardi è passato quasi del tutto in ignorata, inosservata una vicenda che invece ha un valore straordinario. Cioè con la riforma del 2001 il mezzogiorno è stato cancellato dalla Costituzione e contemporaneamente con quella riforma si è indebolito il ruolo dello Stato e si è costruito un consolidamento del centralismo regionale che è stato fallimentare. Quindi da questo punto di vista la riflessione sulle macro-regioni è uno dei modi per tentare di superare l'attuale regionalismo. Si guarderà anche alle aree interne? Le aree interne sono un polmone importante dal punto di vista della prospettiva di sviluppo della Campania. Ci sarebbe bisogno anche in Campania di una sorta di fase costituente che riconcili le due parti della Campania attraverso una capacità di sviluppo organico. Perché paradossalmente Napoli è troppo e troppo poco, è troppo perché rispetto alla regione è egemonizza ed è troppo poco perché non svolge il ruolo della funzione direzionale di capitale. E il rapporto con le aree interne è un rapporto utile perché le aree interne hanno delle potenzialità straordinarie dal punto di vista della crescita. Basti pensare alla condizione ambientale, diciamo, delle aree interne, a quello che possono rappresentare sul terreno dell'agroalimentare, di un certo tipo di turismo, del turismo religioso. Insomma, la Campania ha questo polmone e questo polmone lo deve utilizzare. A Napoli c'era anche l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Una destra più unita, più forte, quali sono gli obiettivi, quali i programmi? L'azione nazionale nasce per unire la destra. C'è una fame di destra in tutta Europa, in particolare in Italia, ovvero di una forza politica che difende i valori della nazione, di uno stato forte, di una solidarietà sociale che riguarda innanzitutto gli italiani, che non si disperdano nei rivoli degli immigrati o in discorsi completamente astratti, come quelli della sinistra. Per cui questa destra deve rinascere, l'azione nazionale sta parlando a tutte le persone che provengono dall'alleanza nazionale, dall'esperienza storica della destra italiana, per ricostruire queste energie. Noi siamo nati per unire, non per dividere, e la nostra intenzione è di presentare già dalle prossime elezioni le liste civiche che rappresentino quest'area.